Il progetto degli inni sacri rimane incompiuto. La ricerca di un genere popolare che soddisfile tre condizioni fondamentali per la letteratura, l'utile come scopo, il vero come soggetto e l'interessante come fine, approda al teatro, con la composizione tra il 1816 e il 1822 di due tragedie di argomento storico, il conte di Carmagnola pubblicata nel 1820 e la Delchi del 1822. Come si spiega questa scelta? Essenzialmente per l'importanza che la cultura romantica attribuisce al teatro. Il teatro è potenzialmente il genere più popolare, cioè quello che può raggiungere il maggior numero di persone. Mentre i versi lirici ed epici devono essere letti, quelli tragici possono essere visti e ascoltati sulla scena. Anche gli spettatori scarsamente alfabetizzati capiscono la trama e le idee fondamentali di una rappresentazione teatrale. In secondo luogo perché, ben più della poesia religiosa, il teatro si presta a rappresentare il vero, in particolare la storia. Sul modello dei grandi drammaturghi tedeschi, suoi contemporanei, che avevano già scelto come tema delle loro tragedie le gesta di eroe non antichi ma moderni, Manzoni scrive due tragedie di argomento storico, mettendo in versi la storia nazionale, quella dell'età longobarda nella Delchi e quella veneziana del XV secolo nel conte di Carmagnola. Tuttavia l'obiettivo di un'arte autenticamente vera e popolare appare ancora molto distante. Quello della Delchi e del conte di Carmagnola è un teatro in versi che tra l'altro prevede anche l'intervento di un coro, pertanto la lingua adottata si muove ancora sui registri sostenuti e solenni e risulta distante dall'italiano d'uso. I personaggi appartengono tutti alla nobiltà, manca quindi la varietà di registri linguistici, la polifonia, che sarà propria invece dei promessi sposi.